Ah, che schifo! Vieni a vedere Claudia che ci sta qua a terra! Mamma mia, è grandissimo! Guarda cos'è sto coso! Ciao, io avevo paura! Vittorio, posso salire sul muro! Vuoi salire sopra il muro? Claudia, ma sei impazzita! Non puoi salire sopra il muro! Se sali sopra il muro ti fai male, ok? Non voglio vedere stupidaggini oggi! Oh, oh! Claudia, che stai facendo? Sto salendo sopra il muro! Claudia, guarda che tu adesso cadi e ti fai male! Hai capito? Guarda, guarda quanto sei in alto! Puoi cadere e ti fai male! Non è vero! Ah, sì! Ecco, vedi? Claudia, sta attenta! Claudia, Claudia, sta attenta! Sei pazza, Claudia! Ecco, brava! Claudia, dai, il gioco che stai facendo? La mucca stai facendo che stai camminando così? No, no! Claudia! Claudia, aspetta! Sì, sì! Dai, dammi la mano e scendi! Guarda, c'è un gatto! È carino, è piccolo, piccolo! Dai, coraggio, adesso dammi la mano e scendi! No! Claudia, ho detto... Ho detto, dammi la mano e scendi giù dal muretto! No! Conto fino a tre, ok? Poi vengo io, ok? Allora, uno... C'è una mosca, c'è una mosca! Ecco, ora si fa male! Due! Aiuto! Due e mezzo! E... Tre! Sto arrivando io adesso! Vieni qua! No! Arrivo! Arrivo! No, non voglio! Adesso ti prendo! No! Aiuta! Claudia, per favore, non farti... Aiuta! Male! Che cavolo... Che... Claudia! Che ti è successo? Oh, mamma mia, bella! Tu sei caduta come un sacco di patate! Che cavolo ti sei fatta al dito? Oh, mamma mia! Stai coccionando sangue ovunque! Car miseria, accia nera! No! Claudia, ce la fai ad alzarti? Dobbiamo andare a casa! Dobbiamo medicare la ferita! Ascolta, mi rimane più pieno da platta, uno scherapaggio, una moschera, non so cosa, ma... È pericolosa! E non cadere un'altra volta! Ce la fai a camminare, un mammino! Ce la fai a camminare, Claudia? Che? Ti si aspetta! Pure è sulla gamba! Ti sei sporcata di sangue pure lì! Aspetta, qua dietro! Un mamma... Claudia, saliamo subito sopra! Dobbiamo salire... Claudia, dove vai? Claudia, la casa non sta di là... La casa sta di là... Vieni! Porca miseriaccia! Ciao! C'è qualcuno? No, ho capito! Saliamo! Ma è scarafaggio! Eh, lo so! Devo citofonare... Ma è vivo! È vivo ancora? Aspetta... Oddio, è vero! Si muove ancora questo scarafaggio! Lo... Lo tocchiamo? No, lo tocchi tu però... Lo tocco? Sì! Lo tocco? Sì! No, ti schifo! Si muove troppo! Fa troppo schifo! Non lo voglio... No, io non lo voglio toccare! No, io non lo tocco! Busiamo... Vera! Vera, rispondi! Rispondi! Che Claudia si è fatta male! Apri questo portone! Ah, ma è aperto! Claudia! Claudia! Che è successo? Che cosa è successo? È successo! Vera, Claudia si è fatta di nuovo male! Un'altra puntura di Vespa! No, Vera! È il dito! Oh, mamma mia! Oh, mammina mia, Claudia! Claudia, stai facendo cadere tutto quanto il sangue per terra! Che schifo! Pomodoro! C'è del pomodoro per terra! Pomodoro, pomodoro! C'è il pomodoro! No, Vera! Questo è sangue! Vera, questo non è pomodoro! È tutto quanto sangue! Guarda che sta succedendo al povero dito di Claudia! Devo vomitare! Devo vomitare! Oh, pomodoro! C'è del pomodoro qua a terra! Guarda! Vera, questo non è pomodoro! Questo è sangue! No! Vera! Vera, no! Guarda! Oh, mamma mia, che schifo! È rimasto qua a terra! C'è il tuo sangue qua a terra, Claudia! C'è il suo merito! Guarda quanto sangue sta uscendo! Claudia, vieni subito qui! Dovevi subito andare a pronto soccorso! Come è vero il pomodoro? Come è vero il pomodoro? Ti sei rotto il dito giù! Claudia, sta attenta a non sporcare per terra! Perché fa vivere tutto quanto pulito! Non devi sporcare per terra! No, no, no! Devi disinfettare prima! Non puoi mettere l'acqua! Tu lo sai che quest'acqua è piena di germi e batteri? Eh? Lo sai? Devi prima disinfettare la mano! No! Che schifo! Che schifo! Stai sporcato tutto il lavandino di sangue! Che schifo! No! Devi mettere il disinfettante, Claudia! Ah, il disinfettante sta qui! Allora, Claudia, per prima cosa dobbiamo disinfettare la ferita! Perché se no i batteri si mangiano tutto quanto il dito! Così! Capì? Ecco! Dammi questo! Ah, e serve anche novatta! Perché non basta adottare il disinfettante! Perché se no ti bagni il disinfettante! Ti fai la doscia! Ok? Allora! Anzi! Metti il dito qua! Qua! Eh! Attenta perché brucerà un pochettino! Basta, vera! Ah! Che schifo! È orribile! Perché c'è davvero uno spasso! Lasciatevelo dire! Ok! Pronta? Sì! Vado col disinfettante! 3, 2, 1, 3! Ma brucia tantissimo! Lo so che brucia perché sono i batteri che muoiono! Come vale, ma vale tutto questo! Brucia, brucia, brucia! Sì! Ok, ok, ok! Direi che può bastare! Quello più brucia e più vuol dire che i batteri stanno morendo! Ok? Quindi... Quindi stai guarendo, Claudia! Ringrazia Vittorio! Ma comunque muoiono! Eh! Muoiono! Brucia perché muoiono! Adesso dobbiamo mettere! Adesso dobbiamo tamponare la ferita! Con lo vatta! Dove è lo vatta? Eh? Va! Ecco qua! Ti! Ho capito che ti fa male! Però non mi spacca il timpano! E dopo chi è che me lo cure il timpano? Tu! Ah! Ah! Adesso dobbiamo medicare la ferita! Ah! 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 Ok! Penso che può bastare! Bene! Adesso dobbiamo medicare la ferita! Mettiamo un po' di cartigienica! Così! Con l'acqua! Che con l'acqua! La cartigienica con l'acqua la metti! Scusi in zuppa tutto quanto! Così! Ta-ta! Ta-ta! Fasciare! Poi? Fasciare! Poi? Fasciare! Ecco fatto! Come va il dito? Male! Ti fa ancora male? Sì! Ah! Bene! Adesso il tuo dito è diventato una mummia! Ok? Guarda! Adesso il paziente deve stare a riposo! Ah! Ah! Ecco fatto! Andiamo a dormire! Mi sono fatto male! E il dito! E il dito che ti si fa male? Mi sono fatto! Mi sono fatto! Quando Claudia non ti togliere la fascia! Ok! Ti si è tolta la fascia! Esce tutto il sangue così! Sei seccato? Fammi vedere! Ma che sei seccato? Mi sono sporcato le dita! Ma sai cosa voglio fare? Aspetta! Fatti pulire qua! C'hai sporco di sangue vicino alla gamba! Ok! Aspetta! Ah! Mi sono letto! Ti devo togliere il sangue dalla gamba! Mi sono letto però! Eh! Ma sei sporca qui! Guarda Claudia! Qui sei sporca! Ti devo togliere quel sangue! Pulire qua! Acqua bagnata! Su un po' letto! Ecco qua! Si sta togliendo! Interrompiamo il programma! Per presentarvi le magliette della VittoFamily! Il prof a scuola vi ha dato troppi compiti? Indossate maglietta e berretto della VittoFamily e sarete talmente felici da diventare super veloci! E riordinerete la vostra cameretta in meno di un millisecondo! Aiuto! Vittorio! Salva! Mi da Freddy! Freddy! E grazie alle magliette della VittoFamily avrete il super coraggio! Freddy! Ho la maglia della VittoFamily! Non ho paura di te! Ah! Ah! Che fatica! Ho tantissima sete! E grazie alla borraccia della VittoFamily sarete sempre dissetati al punto giusto! Diventerete super coraggiosi! Sììì! Magliette, berretti, borraccia e molto altro su vittorioloffredo.it! Fissate le lucine in movimento! Fissatele e sognate! Ordinate oggi stesso i gadget della VittoFamily! Disponibili su vittorioloffredo.it! Attenzione, sono talmente belli che potrebbero accecare i vostri amici!